Secondo messaggio dal passato è dall'Unione Europea Sovietica. Per chi in futuro nel 2024 dovrà votare per le elezioni europee è giusto che sappia qua nel passato che cosa è successo e magari riuscirà a liberarci in futuro. Per esempio, voi tutti pensate di vivere o sperate di vivere in una democrazia dove le cose più importanti vengono decise dove a un certo punto ogni decisione che impatta le vostre vite deve essere condivisa dalla maggioranza. Bene, il fatto è che purtroppo nell'Unione Europea Sovietica la democrazia non piace, cioè quando ci sono i voti meglio che la gente non sappia, la gente non deve sapere come e perché vengono organizzate le cose. Quindi immaginate che anche se vi sembrerà incredibile, ma credetemi è vero, tutte le decisioni economiche nell'Europa Unione Sovietica vengono decise in un posto che si chiama Eurogruppo dove tutti i ministri vengono riuniti in una stanza dove ricevono un foglio dal politburo del partito unico del Più Europa e il massimo che possono fare pestando i pugni è cambiare una parola, ma in realtà è già tutto deciso e giusto per non far sapere a nessuno che cosa viene detto e perché non ci sono verbali, quindi non è possibile sapere chi, perché, perché ha detto che cosa. Non è anche possibile sapere cosa hanno fatto i tuoi stessi rappresentanti. Per cui, per cortesia, nelle elezioni del 2024 liberateci, votate i partiti del gruppo ID, in Italia votate la Lega e cerchiamo di andare nella direzione del meno Europa, perché più Europa porta più Europa a Unione Sovietica, non porta più libertà.